Buongiorno e ben trovati a questa puntata di A Voi la Linea. In primo piano la sanità perché l'azienda sanitaria universitaria del Friuli centrale è all'avanguardia per i sistemi di assistenza sanitaria sul territorio grazie a un progetto di telemedicina avviato dalla clinica maxillofacciale nel periodo della pandemia. I pazienti sono stati distribuiti tablet messi a disposizione dalla regione che sono stati utilizzati per tecnologia e teletrauma. Vediamo. Il progetto del futuro al momento è solo in fase sperimentale però consente, ha consentito di ottenere ottimi risultati. Ne parliamo con il professor Massimo Robioni che è direttore della struttura operativa complessa di maxillofacciale della clinica maxillofacciale dell'azienda sanitaria universitaria del Friuli centrale. Ne parliamo di medicina, di telemedicina per quanto riguarda il teleoncologia e il teletrauma. Avete sperimentato questo sistema soprattutto nel periodo della pandemia? Questa esperienza che è nata durante la fase della pandemia ad oggi ha noverato 290-260, adesso non ricordo il dato esatto, ma è che tanti pazienti sono stati poi seguiti completamente a casa. E da questo c'è stato lo stimolo a voler intraprendere due progetti sperimentali per poi farli diventare istituzionalizzati perché rientrano nel PNRR, quindi la missione 6, proprio che prevede la telemedicina. E quindi poter partire con due progetti sensibili, ovviamente uno è quello della teleoncologia, quindi monitoraggio dei nostri pazienti a casa e screening, quindi diagnosi precoce del cancro del cavo orale. E l'altro è il teletrauma che è più un progetto di sistema, perché vede collegata la struttura hub con gli spocco come è giusto che avvenga in una sorta di interazione che diventa un'interazione tecnologica mediata dalla telemedicina e che permette di evitare per esempio dei trasferimenti dallo spoc al lab inutili, attivazione di ambulanze, attivazione di personale, il paziente che arriva da noi però non deve essere operato e deve ritornare allo spocco. Quindi noi facciamo uno screening, un'analisi prima nel posto del paziente e questo progetto è stato molto ben accolto anche dai primari dei pronto soccorsi, che ringrazio moltissimo perché la nostra fase sperimentale tra l'altro è iniziata con una visita dei nostri medici negli spocco, che hanno lavorato per una settimana a fianco dei medici del pronto soccorso per acquisire quella dimestichezza ma soprattutto per entrare in quella confidenza empatica che permetterà poi di relazionarsi meglio anche durante la televisita. Un progetto che ha ottenuto un secondo premio, proprio per questo è stato anche citato e su questa strada l'ospedale di Udine intende continuare appunto per applicarlo anche ad altri settori, ad esempio alla gastroenterologia, alla chirurgia vascolare. Sì, infatti il dottor Frigati e l'autoressa Beretti che ringrazio per essersi comunque interessati ai nostri progetti hanno chiesto di voler entrare in questa fase sperimentale, quindi noi forniremo tutto il nostro know-how perché è importante che l'esperienza vada oltre i confini della maxilofacciale che ripeto è una disciplina di grande importanza però resta pur sempre una disciplina specialistica mentre poter essere di ausilio ad altre discipline che possono avere delle casse di risonanza molto più ampie diventa veramente il goal reale. Ecco, con noi c'è anche un ingegnere gestionale, spieghiamo appunto la sua presenza, Elisabetta Occello, che sia occupata, che sia della parte appunto organizzativa, tecnica per i collegamenti. Sì, noi siamo partiti da un concetto fondamentale che è quello del valore per il paziente e dalla presa in carico globale, quindi ci siamo posti in una domanda, cioè come possiamo migliorare i nostri processi organizzativi per ottenere una prestazione di qualità e permettere agli operatori di lavorare in un contesto di benessere organizzativo e trasferirlo al paziente. Da lì abbiamo cominciato ad analizzare tutti i processi, partendo dall'accettazione al reparto, alla sala operatoria, alla visita per ricovero, fino ad arrivare alla dimissione, per iniziare insieme a tutta l'equipe della SOC, di chirurgia maxilofacciale, e lavorare insieme per capire quali possono essere gli aspetti da migliorare in un concetto di, come si dice, di miglioramento organizzativo, applicando delle tecniche e degli approcci gestionali che sono legati all'in-management, quindi all'organizzazione snella del settore sanitario. Assessore, questa è una risposta alle critiche che erano state mosse a suo tempo nei confronti dell'ospedale, obsolescenza di queste strutture, telemedicina invece la dimostra contrario. Sì, l'obsolescenza che è stata rilevata è un dato strutturale che ha a che fare probabilmente con il protagonismo di quelli che criticano, perché è quello il risultato, perché 200 milioni di investimento da una precedente legislatura contro i 750 di questa spiegano che cosa è successo. Però, a parte le polemiche che costano energie, sono poche, quindi le lasciamo correre, questo è un fattore decisivo, perché questo determina innanzitutto una grande risposta in termini di appropriatezza, cioè noi siamo abituati a chiedere delle prestazioni che magari non sono proprie, quindi creano il disagio nei confronti del cittadino che chiede delle cose di cui non ha bisogno e impongono al sistema di dare le risposte che non sono quelle di cui dovremmo garantire l'appropriatezza. Determinano un problema di capacità di risposta creando le migliori condizioni anche del cittadino, garantiscono la prossimità, quindi anche la distanza e alleggeriscono quello che è l'organizzazione del sistema sanitario. Quindi è una strada sulla quale noi dobbiamo correre, dobbiamo continuare ad investire e dobbiamo fare anche il lavoro ovviamente di alfabetizzazione nei confronti delle persone che possono essere raggiunte anche in punti lontani rispetto a dove stanno gli ospedali, garantiscono i percorsi riabilitativi e poi dobbiamo anche fare una grande operazione di implementazione perché questo non è ancora sufficiente di capacità, di connettività, di garanzia dei segnali nelle aree, in particolare nelle aree che in questo momento fanno difficoltà ad averle, questa è un'altra cosa importante. È un percorso in progress che segna una tappa importante, che è quella che abbiamo visto oggi e che deve moltiplicarsi nelle altre specialità a partire anche dalla medicina generale. Cambiamo argomento e parliamo invece di enogastronomia. Ritorna a Sappada dal primo al 10 luglio gustosa Sappada, il festival della gastronomia di Sappada e Fornia Voltri. 27 attività proporranno nelle due località menu e proposte gastronomiche sul tema i sapori di una volta. Vediamo come. Ospitalità autentica elevata dall'enogastronomia di alta qualità. Si presenta così gustosa Sappada, festival giunto alla seconda edizione, che proporrà dal primo al 10 luglio degustazioni, menu tipici, percorsi a tema e in quota tra Sappada e Fornia Voltri. Tutto pronto per Gustosa Sappada, l'enogastronomia protagonista di questo festival? Sì, è la seconda edizione e ci sono delle riconferme rispetto alla prima e delle novità assolute. Abbiamo pensato di potenziare un festival che è incentrato su uno dei prodotti che più attirano i nostri turisti, la gastronomia appunto. Poi Sappada ha una ricchissima tradizione datata secoli fa, dove appunto la cucina ha sempre avuto un ruolo fondamentale. C'è stata poi una crescita esponenziale a livello mondiale di interesse da parte di turisti di questo prodotto e quindi questa è la strada che percorreremo anche da qua in avanti. 27 sono le attività che hanno aderito tra ristoranti, B&B, pasticcerie, un panificio, che propongono quest'anno dei menu e dei prodotti a tema e il tema sono i sapori di una volta. Quindi per dieci giorni i nostri ristoranti e tutte le attività che aderiscono presenteranno queste tipicità. In più, nelle due giornate di sabato, domenica 9 e 10, lungo il sentiero 5, si potrà assistere ad una kermesse di prodotti del territorio, molti a chilometro zero, e poi ci saranno musica e intrattenimento ad allietare una parte di gustosa Sappada proprio molto più bucolica rispetto a quella dei ristoranti. Tra gli ingredienti di questo festival anche chef VIP. Abbiamo l'onore e il piacere di avere a Sappada degli chef di altissimo livello, tra questi ricordiamo Fabrizia Meroi che anche ieri ha ottenuto un nuovo riconoscimento, oltre ad essere stata proclamata la chef dell'anno dalla guida dell'Espresso, ma chef di alto livello anche di altre strutture, come per esempio ricordiamo il BAC, oppure un giovanissimo chef che è Federico Cratter, che ha appena 27 anni ed è uno, se non il più giovane, chef di questo livello nella nostra regione. Quindi insomma ci saranno gusti e qualità garantiti. E poi VIP, che hanno accettato il nostro invito e che testeranno la qualità della seconda edizione di Gustosa Sappada. Tra questi Maria Giovanna Elmi, Francesco Moser, musicisti, e poi i nostri amici giornalisti perché sicuramente il loro parere è fondamentale per noi. Come si inserisce questo festival nel programma per l'estate di Sappada? Allora diciamo che abbiamo ideato un programma di manifestazione molto ricco. Siamo partiti settimana scorsa con il primo concerto dei Borghi della Notte Romantica che ha voluto dare il via e là a una ricca programmazione estiva che spazierà dalla gastronomia, quindi abbiamo visto Gustosa Sappada, ma spazierà in tantissimi campi, dallo sport al teatro, alla musica, quindi veramente una ricca programmazione estiva. Gustosa Sappada è un festival alla seconda edizione, come ha detto prima il direttore del consorzio, che credo che mai, come in questo caso, si possa dire che faccia sinergia all'interno del territorio, perché 27 attività tra Sappada e Fornia Voltri che si riuniscono per una manifestazione non è così facile riuscire a trovarle, riuscire a organizzare. La Kermess, organizzata dal consorzio Sappada Dolomiti Turismo, con il sostegno di Promo Turismo FWG, è stata presentata questa mattina a Udine, alla presenza tra gli altri dell'assessore regionale alle attività produttive e turismo, Sergio Bini, e di Fabrizia Meroi, nominata chef dell'anno per il 2022 dalla Guida all'Espresso e che ieri è stata informata delle tre forchette assegnate dalla Guida Gambero Rosso al suo ristorante, Light, a Sappada. Molto bello, di impegni, ma per fortuna anche di altro, insomma. È una delle cose in assoluto belle della vita e poi avere l'opportunità di utilizzare delle materie di alto livello e avere la fortuna di essere in una località stupenda, insomma, su tutte le aggiunte proprio. Assessore, dal mare alla montagna, l'enogastronomia è sempre una carta vincente, lo è in particolare in Friuli Venezia Giulia. Beh, assolutamente, stiamo vivendo un momento davvero magico, il turismo a tutto tondo sta tirando in maniera significativa, in maniera importante. L'enogastronomia è una delle carte, uno dei jolly, che noi ci possiamo giocare tranquillamente sia a livello regionale, nazionale, ma anche e soprattutto a livello internazionale. Eventi come questi sono eventi che arricchiscono un già ricco palinsesto, quindi, insomma, stiamo vivendo una stagione meravigliosa, nonostante i condizionamenti che ancora, ahimè, ci sono. Però, numeri importanti, incassi importanti, visitatori, momento davvero magico. È tutto per questa puntata di A voi la linea, vi lascio in compagnia del notiziario di Aska News. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di giornata. Grazie per essere stati con noi.